Oggi parliamo di una novità di Whatsapp, oggi parliamo di una novità inerente allo stato di Whatsapp, una cosa che forse non tutti utilizzano, una cosa che in effetti si sta sempre più amalgamando a quello già disponibile su Facebook. Sapete che da tempo su Facebook è possibile scrivere i propri stati utilizzando degli sfondi colorati? Ebbene, adesso è possibile anche in Whatsapp. E' una novità che è stata introdotta nell'ultima beta dell'applicazione per i messaggi gratis, è una novità che è veramente molto semplice da utilizzare ma che per ora è disponibile esclusivamente nella versione Android di Whatsapp. In questo video vi farò vedere proprio come funziona. Io sono Dario Calindo, benvenuti in un nuovo video di TechFanPage. Pubblicare uno stato colorato su Whatsapp è veramente molto semplice. Tutto quello che dovrete fare sarà ovviamente avviare l'applicazione, scegliere la voce stato nel menu posto in alto per vedere, per me di tutto, elencati gli stati di tutti i vostri contatti. A questo punto in basso troverete due icone. La solita icona a forma di fotocamera avvierà la fotocamera e vi permetterà di pubblicare uno stato nella maniera standard, quindi utilizzando una fotografia. Ma vedete c'è un'altra icona con la forma di una penna che selezionata aprirà proprio la nuova sezione con la quale sarà possibile scrivere gli stati colorati. A questo punto non dovrete fare altro che scrivere il testo che volete condividere e modificare lo sfondo utilizzando le icone poste sulla sinistra. Icone che vi permetteranno non solo di modificare lo sfondo ma anche di modificare il tipo di carattere che volete avendo utilizzato nella condivisione e anche di inserire un emoji che poi verrà inserita proprio nel testo. A questo punto selezionando l'icona pubblica il gioco sarà fatto. Probabilmente il rilascio di questa novità è stato necessario perché in effetti nessuno utilizza questa funzionalità. Io ho una rubrica molto ampia ma nessuno dei miei contatti utilizza lo stato su WhatsApp e in effetti nessuno utilizza la storia su Facebook ma questa è un'altra storia. Il tempo di rilascio può variare perché attualmente si tratta di una funzionalità inserita solo nell'ultima beta di WhatsApp quello che possiamo dire è che per ora se ne parla solo per Android però io adesso dovremo aspettare ancora un pochino. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di TechFanPage.